buongiorno a Davide Giacalone buongiorno bentrovati ciao Davide buongiorno buongiorno a tutti grazie naturalmente a tutti voi della passione del vostro affetto quotidiano della vostra attenzione mi permettete perché scusate è una notizia che eh personalmente ho letto solo negli ultimi minuti ma come famiglia come gruppo un abbraccio fortissimo al nostro Max Adinolfi ci sono cose su cui è inutile aggiungere parole semplicemente Max forte forte l'abbraccio da tutti tutti noi Corriere della Sera ultimatum per rifare la manovra l'Unione Europea all'Italia notizia che avete sentito ovviamente più volte da ieri pomeriggio avete tre settimane Mattarella nessuno può sottrarsi all'equilibrio dei conti però Davide arriviamo da te leggendo uno dei commenti pubblicati in prima sul Corriere della Sera Massimo Franco la bocciatura chiamata dal governo secondo l'editorialista del Corriere quindi non solo attesa ma quasi cercata che vuol dire Davide? vuol dire che quello che dicevamo ieri non è una bocciatura la bocciatura della posizione italiana è nella lettera del governo italiano l'affermazione che si trova all'inizio è siamo consapevoli di essere fuori dal rispetto delle regole europee siccome la Commissione Europea non deve valutare se una idea è buona o cattiva perché non ha potere politico di stabilire se una cosa è giusta o sbagliata deve stabilire se è coerente o no se rispetta o no le regole del bilancio e siccome non le rispetta non può che bocciarla quindi è certamente una bocciatura chiamata perché è una bocciatura come cercavo di raccontare ieri che è contenuta nei conti italiani cerchiamo di essere chiari si può avere opinioni le più diverse sul rapporto con la Commissione Europea dei governi nazionali quello che si crede il governo italiano ha su questo punto ha porto e siccome il governo italiano è il legittimo governo dell'Italia e di noi tutti italiani quindi noi noi abbiamo porto quei conti non reggono non stanno in piedi dopo di che uno può anche dire non li modificherò mai a parte che abbiamo già modificati cento volte ma insomma cosa comporta e non li modificherò mai comporta l'avvio di una procedura di infrazione ci vorrà del tempo quindi non è che succede niente domani mattina ma è una procedura grave e la seconda conseguenza fai più pesante è che in questo modo l'Italia neutralizza Mario Draghi presidente della Banca Centrale Europea gli stessi che oggi violando le regole mettono l'Italia noi ci mettono noi siamo dalla parte del torto domani non osino dire cerchiamo la salvezza ci deve difendere Mario Draghi perché sono esattamente queste condotte che lo indeboliscono e lo neutralizzano. Davide allora ti dicevo prima l'opinione di Feltri ospitata sul giornale Libero praticamente è una battaglia diciamo politica che lui sta facendo da molte settimane dice o si rispettano le regole o si esce dall'Unione Europea mentre Sapelli sul messaggero sostiene che due torti contrapposti non fanno una ragione come a dire che la via indicata da Salvini e Di Maio sia quella in qualche modo di accompagnare per mano il nostro paese almeno apparentemente a uscire dall'Unione Europea cosa che mai accadrà e forse lo sappiamo già qual è il tuo giudizio? Se così fosse loro esprimerebbero il giudizio più pesante sia Sapelli che Feltri su chi governa perché gli darebbero del bugiardo, del truffatore. Da questi microfoni Di Maio vicepresidente del Consiglio ha detto io sono diventato libero del Movimento 5 Stelle proprio difendendo la nostra posizione dentro l'Unione Europea e dentro l'Euro che non è in discussione non sarà in discussione. Questa è la posizione del governo italiano, questa è l'affermazione con la quale si chiude la lettera del governo italiano di risposta alla Commissione Europea, il nostro posto è in Europa e nell'Euro. Il giorno in cui io dubitassi di questa posizione dovrei dare agli interlocutori di governo, agli uomini di governo, del truffatore, del cialtrone che dice una cosa e ne fa un'altra. Assolutamente non sono di questa opinione quindi credo che queste siano opinioni tenerarie. Andiamo, rimaniamo sulle prime, adesso passiamo su Repubblica che anche in questo caso dedica l'apertura alla bocciatura, Movimento 5 Stelle, Lega, scontro totale con la UE, il colle, rischi per famiglie e aziende, ricordiamo che ieri è intervenuto appunto Mattarella. Però andiamo poi a fondo pagina dove c'è la cronaca, quella brutta, quella nera, trovata morta a 16 anni dopo la droga e lo stupro, caccia a banda di spacciatori. Stiamo parlando di Desiree, l'abbiamo appena ascoltato anche nel giorno all'orario. Eh vogliamo anche un tuo commento Davide. Sapete, sapere se la vita di di questa povera ragazza Desiree abbia qualche cosa in comune o meno con un'altra vita che abbiamo purtroppo perso, quella di Pamela Mastropietro, vi ricordate, a Macerata. Sì, certo. Se si tratta di una ragazza che faceva, non faceva uso di sostanze sulle facenti, ha qualche cosa a che vedere con la descrizione di quella morte, ma non cambia assolutamente niente, assolutamente niente rispetto al dato fondamentale. Non è in nessun modo tollerabile né lo spaccio di droghe, né l'occupazione di edifici che creino delle extraterritorialità. Cioè, dietro quel cancello a San Lorenzo c'è una legge, una sovranità diversa rispetto a quella che c'è da questa parte del cancello. I carabinieri e la polizia devono entrare. Queste sono cose che devono essere represse. Occorre repressione legale, nel rispetto del diritto, ma repressione per lo spaccio e per queste forme di occupazione. Poi, naturalmente, per quel che riguarda purtroppo questa morte, saranno le indagini a stabilirne maggiormente i contorni. Ma quello, l'edificio, rimane un edificio occupato a San Lorenzo e rimane occupato da spacciatori di droga. E questo è uno sfregio alla nostra convivenza civile che non possiamo tollerare. Ripeto, repressione. Tra l'altro vorrei aggiungere, Giussi e Fulvio e Davide, che nel quartiere San Lorenzo di Roma, dove io ho vissuto per molti anni, c'è una via, Davide lo sa bene, che è via dei Volci, che da sempre è gestita autonomamente da un gruppo di persone legate ai centri sociali che spacciano costantemente. Se la polizia osa entrare, purtroppo gli viene impedito. E tutto questo sotto gli occhi dei cittadini per bene che vivono a San Lorenzo, che fanno fatica a vivere lì e a avere una qualità della vita che rispetti, per esempio, i bambini e i più anziani che passano per quella via. È veramente una contraddizione che a Roma è stato difficilissimo governare e tuttora non si fa nulla. Mica solo a Roma. E poi aggiungerei, non riguarda in modo diretto, ma ha delle ricadute il discorso che ha appena fatto Davide. Guardate che abbiamo un altro fenomeno di extraterritorialità in Italia, che è quello delle curve degli stadi. Ora, uno si può limitare a, grazie anche all'ultimo report, a definire tutto in termini, io ce l'ho con quella società, la Juventus, o sono con quella, la Juve. Ma finché non diremo che noi abbiamo pezzi di stato, le curve degli stadi, alcuni edifici abbandonati, sottratti al controllo del medesimo, continueremo semplicemente a ripeterci le stesse cose e magari accusarci a vicenda da Ultras. Davide, la stampa oggi è una prima molto interessante, a parte l'apertura scontata sulla bocciatura. Ci ricordano a centropagina quello che abbiamo detto mille volte? Da Tremonti a Renzi, le liti infinite con l'Unione Europea. Non abbiamo inventato nulla, anche se la bocciatura poi era sempre stata evitata in extremis. Ma ti giriamo la fotonotizia a centropagina. Crolla la scala mobile metropolitana, panico e feriti fra i tifosi russi a Roma, a proparentesi, molti di loro ubriachi. Sì, erano ubriachi, cantavano, avevano le bottiglie, molti si sono feriti con le bottiglie, eccetera, eccetera. Però questa roba qua non è che non giustifica. È mai possibile che si rompa una scala mobile? Si domanderà qualcuno. Sì, è possibile. Guardate, lo faccio spesso, quella, il passaggio delle scale mobili per andare alla metropolitana a Piatra di Spagna, per la grande parte dei casi in cui ci passi sono ferme. E sono ferme, suppongo, non per mancanza di energia elettrica, ma perché bisogna rivederle, bisogna sistemarle, sono guaste, sempre così. Poi ieri è successo il peggio, cioè se è rotta la gente è cascata giù. Ma è la capitale, è la capitale d'Italia. cerchiamo di non farne troppo un simbolo di queste cose, della capitale e farne un simbolo dell'Italia, perché purtroppo ci siamo molto vicini. Purtroppo aggiungerei che la manutenzione in alcune di queste stazioni metropolitana è ferma da anni, perché tu hai citato Piazza di Spagna, potrei citarti altre stazioni in cui la manutenzione non avviene. Guardate, uno può sembrare anche ripetitivo, ma per chi vive a Roma è uno shock. È una città altro che il crollo della scala. Qui sta crollando la città, sta crollando la legalità dentro questa città. È incredibile. Va bene, grazie, anzi no, non va bene affatto. Grazie Davide. Grazie a voi e buona ragione a tutti. E approfondiamo ancora la situazione politica con un altro cronista, brevissimo del dubbio, Carlo Fusi. Carlo, buona giornata, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Allora partiamo certamente dalla bocciatura UE, in realtà, non così sorprendente, insomma, rispetto alla nostra legge di bilancio e quindi un commento subito su sulle posizioni italiane, su cosa succederà, insomma, un pensiero un po' su tutto questo argomento. Non così sorprendente, addirittura, secondo qualcuno, cercata, voluta, perché la partita del governo giallo-verde con la Commissione europea presenta due aspetti, uno tecnico e uno più politico. Quello tecnico parte dal presupposto che eh eh questa manovra ha un contenuto risarcitorio, cioè deve restituire ai cittadini qualcosa che gli è stato tolto attraverso l'abolizione della Fornero, quindi la possibilità di tornare a andare in pensione poco dopo i sessanta anni e con il reddito di cittadinanza dare un sostegno a ai poveri, a quella fascia di italiani sempre più ampia che sta in povertà per colpa delle politiche delle austerity volute e perseguite dalla Commissione europea e eh dal governo dai governi precedenti. Tutto questo però avviene e questo è il punto a debito, cioè aumentando il deficit, quindi viene risarcito qualcosa ma con risorse che non abbiamo, che dobbiamo prendere a prestito e che sulle quali pagheremo interessi di pagheranno gli italiani più ampi. E poi c'è la partita politica, cioè tutto questo, lo scontro tra la commissione e il governo italiano, è finalizzato alle elezioni europee che ci saranno a metà, a fine maggio del 2019, perché lì l'intenzione di Lega soprattutto e di Cinque Stelle di scardinare l'equilibrio che si regge in Europa fino adesso tra nel connubio tra Francia e Germania e l'accordo tra P.P.E. tra i popolari e i socialisti per sostituirlo con un altro arco di forze sovraniste. E' questo che spiega l'enfatizzazione dei toni e anche però il fatto che sarà impossibile trovare un punto d'accordo, quindi questo scontro andrà avanti ancora per parecchi altri mesi. Carlo Fusi, ma se dovessimo dire certamente non era mai accaduto eccetera eccetera, forse è meglio preoccuparsi più di quello che accadrà fra sette giorni, i nuovi giudizi in arrivo da parte di Standard & Poor's in modo particolare, piuttosto che di una procedura di infrazione che con l'elezione alle porte campacavallo, diciamo una sciocchezza? No, ma è proprio questo il punto, cioè io prima ho detto sarà un lungo braccio di ferro che durerà fino a maggio perché c'è una partita politica enorme in gioco, però il problema è che a maggio bisogna rifarci, cioè le condizioni nelle quali noi stiamo, nei quali sta l'economia italiana che ha, che spende, un paese che spende il 30% di più di quella, tutta la ricchezza che mette insieme in un anno e che ha un debito stratosferico, il terzo, il quarto debito al mondo e non è certo la quarta economia al mondo. Ecco, se parte un attacco speculativo perché nella possibilità che l'Italia recuperi un livello di crescita doppio rispetto a quello che ha oggi ed è una possibilità nella quale non crede la Commissione Europea, non crede l'ufficio parlamentare di bilancio, non credono le agenzie di rating, non crede l'Ox. Ecco, se parte un attacco speculativo e famigerato spread appunto supera o tocca soglia quattrocento e lì ci sarà da mettere mano subito a interventi radicali e non so quale sarà l'intenzione del governo. Il rischio però, ripeto, è che la scommessa sulla crescita diventi un azzardo che poi alla fine pagano tutti i cittadini. Senti Fusi, in quindici secondi perché non abbiamo più tempo, secondo te in vista delle elezioni europee nascerà ufficialmente il partito identitario e sovranista Guida Salvini? L'intenzione è quella di far diventare la vittoria dei sovranisti una vittoria di Salvini che si candida ad essere commissario europeo. Questa è la scommessa ed è possibile che venga vinta. Ripeto, il problema è il costo di questa scommessa soprattutto per un paese fragile come siamo. Grazie, grazie naturalmente a Carlo Fusi una buona giornata, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Caro Don Antonio Mazzi, il nostro abbraccio. Buongiorno. Io vado sempre sulle poesie in questo momento perché credo che è l'unico modo per salvarci. Senti che bella. Cercate i colori della vostra anima. Cercate i colori della vostra anima. Ciao, 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 ciao. Cambiamo di nuovo argomento il calcio con la Champions League. Ieri sera Manchester United Juventus e poi Roma CSH Mosca. Roma incidente nella stazione della metro di Repubblica. Una scala mobile ha ceduto decine di tifosi russi feriti. Alcuni gravi e un altro tifoso russo accoltellato non lontano dallo stadio. Questa sera Barcellona Inter e Paris Saint Germain Napoli. Nostro inviato a Manchester Paolo Pacchioni. Il punto a te. Buongiorno Pierluigi. Ciao a tutti. Allora caro Paolo lo abbiamo ripetuto più volte. Lo hai fatto tu ieri sera in diretta qui su RTL cento due e cinque uno a zero che non rispecchia minimamente una prestazione. Paolo poi magari mi correggerai subito di rara autorevolezza in trasferta ma non una trasferta qualsiasi. Stiamo parlando dell'Oltrafford, dello United. Assolutamente sì. La Juventus ieri ha giocato una grande partita. Massimiliano Allegri alla vigilia lo ha detto. Contro il Manchester United che squadra molto fisica noi dovremmo essere bravi sul piano tecnico ed è esattamente quello che si è visto ieri sera. Una superiorità tecnica della Juventus che ha sbloccato quasi subito con Di Bala al diciassettesimo minuto e poi ha continuato a fare la partita. Se dobbiamo trovare un difetto alla squadra di Massimiliano Allegri dobbiamo dire che una partita del genere non può finire uno a zero perché comunque quando tu tieni le partite in equilibrio può sempre esserci un episodio che ti fa andar sotto alla serata. In effetti alla mezz'ora del secondo tempo c'è stata l'unica occasione dello United con un palo colpito dall'ex Juventino Pogba. Insomma se quella pala fosse stata quattro centimetri più a destra sarebbe stato gol e sarebbe stato onestamente un grande peccato per la Juventus che invece di fatto ha ipotecato non soltanto il passaggio agli ottavi di finale ma anche il primo posto nel girone perché è in fuga nove punti con cinque lunghezze di vantaggio sullo United e sette col Valencia che si è fatto fermare sul pari su dallo Young Boys. Quindi un bilancio assolutamente positivo e poi è stato bello vedere Cristiano Ronaldo che è tornato a casa qui lui è diventato un grande calciatore ha militato nello United per sei anni aveva detto che se avesse segnato non avrebbe esultato. Ci è andato vicino nel secondo tempo ma ha trovato la grande parata di De Gea però poi alla fine è stato molto simpatico che c'è stata un'invasione di campo di due tifosi che volevano a tutti i costi farsi selfie. Sono stati malmenati dagli steward dello stadio ma poi Cristiano Ronaldo quando loro erano stati fermati ha detto dai ok va bene facciamoci il selfie. Si è fatto il selfie in mezzo al campo insieme a questi due invasori poi è andato ad applaudire la curva dello United che gli ha tributato un'ovazione. Bella bel racconto di questa partita ma adesso qualche spazio anche alla Roma molto bene in campo non bene quello che è successo insomma su questa scala mobile no? Naturalmente questo sì per quanto riguarda il campo invece risposta positiva della Roma forse ragione di Francesco quando questa squadra viene presa a schiaffi allora sa reagire e sa rispondere. Grandi critiche dopo la sconfitta in casa di sabato contro la spalla grande prestazione ieri sera uno dei più criticati era stato Dzeko che già nel primo tempo ha segnato due gol indirizzando la partita che poi è stata chiusa dalla terza rete di Hunder. Roma che adesso è in testa il girone insieme a Real Madrid a pari punti a questo punto bisogna conservare questa posizione sarà molto importante la prossima trasferta a Mosca e poi ci sarà Roma Real Madrid ma lì magari ci arriveranno due squadre vicine alla qualificazione. E come dice De Rossi la testa giusta può farci volare in Coppa parlo da tifoso ovviamente non in questo caso da cronista. Senti questa sera Barcellona Inter Paris Saint Germain Napoli. Due grandi partite due grandi trasferte sicuramente molto pericolose ma anche di grandissimo fascino direi che l'Inter ha una situazione di classifica tale per cui voglio dire cose che nel mondo dello sport sono un'aberrazione però tutto sommato potrebbe anche andare bene una sconfitta basta poi fare bene nelle prossime però ci arriva un Inter in salute un Inter convinta insomma magari ci potrà essere un risultato positivo peraltro guardavo ieri sera in conferenza stampa Giuseppe Murigno e pensavo quel Barcellona Inter del duemila dieci che poi diede la finale alla formazione nerazzurra e poi il Napoli a Parigi ha sicuramente una partita difficile però comunque anche il Napoli sta bene e poi in un girone così equilibrato e così difficile non bisogna lasciare punti per strada speriamo che il Napoli faccia bene stasera. Che ricordi hai tirato fuori quel Barcellona Inter? Credo che ogni tifoso dell'Inter abbia perso almeno sette anni di vita e dodici chili durante quel secondo tempo. Però li ha ripresi poi dopo il novantesimo. Ottima riflessione. Grazie Paolo Pacchioni buon lavoro a presto. Buona giornata a tutti. Ciao. È appena arrivato nei nostri studi a Roma il vicepremiere ministro dell'interno nonché leader della Lega Matteo Salvini. Buongiorno Salvini e bentornato su RTL cento due cinque. Buongiorno buon viaggio buon cos'è oggi? Oggi è mercoledì. Mercoledì io ormai sto perdendo. Ieri ero in Romania oggi domani sono a Verona venerdì a Milano sabato a Roma. Agenda fitta. Adesso qua. Adesso. Allora i miei colleghi li conosce perfettamente eh Legrenzi e eh Giuliani da Milano ma iniziamo così eh Salvini. Allora Bruxelles ordina al governo italiano di riscrivere la manovra entro tre settimane e minaccia punizioni. Eh mi dica la verità era quello che lei e Di Maio volevate per scaricare tutte le colpe sull'Europa? No no noi siamo qua per lavorare per migliorare la vita degli italiani non per litigare con nessuno. Mi sembra un attacco pregiudiziale. Io ho letto quello che hanno scritto. Molti degli analisti dei giornalisti commentano le lettere senza averle lette. Io me la sono letta. E la contestazione principale ad esempio è che non bisogna toccare la legge Fornero. Che è una cosa giusta, corretta, equa per cui mi sono impegnato io da anni in Italia ma è nel programma dei Cinque Stelle di Forza Italia e Fratelli Italia. Quindi è il programma del novanta per cento degli italiani tranne che del PD e quella legge la difende e allora è inutile votare. Io penso che sia un attacco all'economia italiana perché qualcuno vuole comprare sotto costo le ottime aziende italiane rimaste. Noi non solo non cambiamo la letterina. Io voglio restituire diritto alla pensione, diritto alla salute. Vorrebbero che tagliassimo i fondi per la sanità, i fondi per la disabilità, i fondi per il diritto allo studio. Non ci penso neanche. Se insistono a tirare schiaffoni a caso a me avrebbe voglia di dare più soldi agli italiani, non di meno. Cioè quindi di fare ancora più più deficit andare oltre i più due. Io mi sono guardato i numerini per chi ci ascolta perché la politica è passione, sono ideali ma sono anche numerini. Il debito pubblico. Tutti ci dicono questa manovra, tutti, questi quattro burocrate Bruxelles. Questa manovra è bocciata per la prima volta nella storia perché aumenterà il debito pubblico. Hanno sempre promosso tutte le altre manovre. Il debito pubblico a gennaio duemila e dodici quando cominciò la famosa epopea di Monti e poi Letta e poi Renzi e poi Gentiloni era di trecento miliardi di euro più basso rispetto a oggi. Cioè tutte le manovre che a Bruxelles hanno applaudito battendo le manine dicendo che bravi che fate i compiti a casa tagliate un po' di spese per gli italiani ma il debito diminuisce. Hanno fatto crescere il debito di trecento miliardi. È mio dovere, non mio diritto, fare il contrario rispetto a quello che hanno fatto Monti e Renzi e la mia convinzione è che il debito diminuirà perché se gli italiani lavorano di più, spendono di più, comprano di più e lo Stato incassa di più, non occorre uno scienziato. Mattarella ha detto qualche cosa in merito, anche lui si è espresso ovviamente a favore degli italiani e secondo il Presidente della Repubblica anche degli italiani più deboli. Lei cosa risponde al Presidente? In questa manovra economica si aumentano le pensioni di invalidità a tanti e si restituisce il diritto alla pensione a gente che altrimenti morirebbe in fabbrica, in ospedale, a scuola, in negozio a sessantatré, sessantaquattro, sessantacinque, sessantasei o sessantasette anni. Vi sembra sano incatenare sul posto di lavoro con l'artrite, con le mani e la schiena rotta per tutti questi anni degli italiani, rubando questi posti di lavoro ai giovani. Quindi tutti quelli che dicono che bisogna non far nulla, non aiutano. Senta Salvini, lei oltre a essere... Io come faccio a guardare i messaggini qua? Mi sono dimenticato il taschino. Adesso glieli stamperemo noi e glieli porteremo noi in onda, anche perché insomma molte delle nostre domande nascono dalle sollecitazioni fatte dai nostri ascoltatori. Senta Salvini, onestamente lei oltre a essere ministro dell'interno, vice premier e leader della Lega e anche un nostro collega, lo vorrei ricordare, perché lei è un giornalista. Ecco, a che prezzo, che prezzo soprattutto rischia secondo lei di pagare l'Italia ora che lei è il governo che rappresenta platealmente messo fine ad una certa sudditanza psicologica nei confronti dell'Europa, della Commissione Europea e dei paesi che l'hanno fatta da padrona sino adesso? Cioè le chiedo, al di là diciamo della sua strategia e al di là diciamo del fatto che lei abbia preso di petto, e questo è in dubbio, l'Europa meglio di altri negli anni, il prezzo che rischiamo di pagare qual è? Se le cose non andassero come dice lei? Ma gli italiani mi chiedono più lavoro, meno tasse e meno burocrazia e meno clandestini in giro. Io ho letto la notizia incredibile di quella ragazza sequestrata, drogata e violentata in pieno centro a Roma, San Lorenzo. Io oggi ci vado. Non ci possono essere luoghi della morte, buchi neri nel cuore della capitale o di altre città italiane. Piano piano cerco di girare regione per regione questo paese e sistemare un po' di arretrati che ho trovato. Se io avessi dovuto rassegnarmi Pierluigi non avrei fatto sull'immigrazione quello che ho fatto e non avrei ridotto di 90.000 gli sbarchi rispetto agli anni scorsi perché l'Europa, i diritti, i trattati, le regole si fa sempre così. No, se si è sempre fatto così perché l'Italia andava col cappello in mano a Bruxelles sull'economia, sull'agricoltura, sulla pesca, sull'immigrazione, da quattro mesi si è cambiato. Mi scusi se insisto ma è il rischio che l'Italia paghi diciamo queste politiche in maniera molto massiccia? Cioè? Gli italiani hanno pagato. Gli italiani hanno pagato abbiamo cinque milioni di poveri. Voi vi rendete conto che noi siamo in diretta RTL, un bellissimo centro nel studio, nel centro di Roma, poi con il collegamento di Milano, io poi vado al mio ministero. Ci sono oggi, ottobre 2018, in un paese evoluto, un paese fondatore dell'Unione Europea, cinque milioni di poveri. Non lo accetto. Per carità non cancellerò la povertà, la fame, la sfortuna, però voglio rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani. L'economia italiana è solida, gli italiani sono dei risparmiatori incredibili nonostante la crisi. Se a Bruxelles la smettono di tirar schiaffoni e gli speculatori aiutano l'Italia a tornare a crescere invece di scommettere sul salto per aria, non c'è problema. Noi comunque tiriamo dritto, Bruxelles può mandare dodici letterine fino al venticinque dicembre quando la porta a Babbo Natale. Noi rispettosamente, educatamente diciamo che prima vengono gli italiani. È stato chiarissimo, tra l'altro c'è una differenza anche tra lei e Di Maio. Di Maio la povertà l'ha abolita, lei ha detto non ha questa pretesa. Non ha questa possibilità e questa fortuna di abolire la povertà e di vincere i derby. Quindi questo si è evidenziato. La saluta Mauro Icardi, ma questa è tutta un'altra storia. Non voglio parlare di questo, per favore non provocate. No, no, lo faccio apposta così poi quando parliamo di Conti pensa Icardi sarebbe con Icardi perché qui battute a parte. Però c'è una scommessa chiarissima nel crescere tanto, giusto Ministro Salvini? Benissimo. Le previsioni se non avessimo fatto, se avessimo fatto quello che Bruxelles ci chiedeva, quindi una manovrina solita alla Renzi, due robe qua, due robe là, però senza toccare la Fornero, senza reddito al lavoro, senza tagliare le tasse, le partite IVA. Più uno. Le previsioni ci avrebbero detto che cresciamo dello zero nove. Esatto, quindi intorno al più uno. Voi scommettete. E tu in quale secolo diminuisci il debito se cresci dello zero nove? Verissimo. Noi scommettiamo che investendo soldi, mettendo soldi nelle tasche degli italiani, assumendo la Ministra dell'Interno, io ho l'onore dopo anni di stallo di assumere diecimila uomini delle forze dell'ordine. Cos'è? Una spesa a caso? È una spesa da non fare? Secondo me è una spesa utile. Primo, perché porta più sicurezza. Secondo perché dai diecimila posti di lavoro utili, concreti. Io sono sicuro che cresceremo non dello zero nove, dell'uno, del due, ma sicuramente più dello zero. Allora, però, Ministro, la domanda è questa. Se, ovviamente io spero più due cinque da italiano, va bene? Più tre, ma magari, insomma, non siamo dei matti, naturalmente. Ma se non dovessimo fare quel più uno e cinque, in questo momento ci danno, in Italia, eh, non all'Europa, più uno e uno. Sì, sì, c'è tutto. Li rifate, no, ebbè, però va chiesto, li rifate i calcoli e i conti? È pieno di cosiddette clausole di salvaguardia che abbiamo ereditato appunto dai Monti, dai Renzi, che facevano bilanci sostanzialmente così, a umma a umma, gli battevano tutti le mani, poi lasciamola a chi arrivava dopo quindici miliardi di buco, cioè le clausole di salvaguardia dell'IVA. Significa che tu vai al bar, pigli il caffè e dice guarda che paga quello dopo di me e poi così a catena. Noi abbiamo ereditato sta roba qua, come clausole, come debito. Noi siamo sicuri che cresceremo. Qualora non crescessimo ovviamente non tiriamo i soldi fuori dalla finestra, ma noi scommettiamo sulla crescita e sull'Italia, perché gli italiani hanno voglia di lavorare. Sa quanti giovani mi dicono se grazie alla modifica della Fornero si liberano posti di lavoro io rimango qua. Non voglio andare in Austria, in Germania, in Svizzera, in Olanda, in Belgio o in Australia. Non ci piazzate la patrimoniale, insomma. Ma andiamo a tassare i risparmi, secondo te? No. Anzi, anzi, non abbiamo fatto tutto quello che mi sarebbe piaciuto e leggo i messaggi. Mi sarebbe piaciuto abolire la Fornero tutta e subito. Mi sarebbe piaciuto non solo bloccare le nuove accise sulla benzina che erano previste, ma tagliare anche quelle vecchie. Mi sarebbe piaciuto ridurre le tasse non solo alle partite IVA, agli artigiani, ma anche ai lavoratori dipendenti subito. Ecco, se avessimo fatto questo saremmo stati dei matti. Fare una manovra subito dove dai tutto a tutti, il paese salta e buonanotte. Abbiamo cominciato. Su queste misure ci torneremo, Giusy. Sì, una cosa subito, voglio ricordare, tutti i nostri ascoltatori siamo anche in diretta Facebook, quindi se volete intervenire da lì, mandare messaggi, eccetera, ci siamo. Io, visto che abbiamo parlato di numerini, devo anche ricordare che però ogni italiano in questo momento ha in capo trentasette mila euro di debito di questo paese. Ed è, sono cifre veramente molto importanti. Anche i nostri figli, certo. Purtroppo sì, siamo veramente, ciascuno di noi, dal poverissimo appunto, quei cinque milioni di poveri fino ai superricchi. Sempre i trentasette mila euro di debito a testa. Sono cifre importanti. Cosa bisogna fare per abbattere questo debito, ministro? Far lavorare gli italiani, restituirgli diritto al lavoro e diritto al risparmio. Se uno lavora, se uno porta a casa uno stipendio, va a far la spesa, paga il mutuo e magari mette al mondo un figlio. Se uno non ha un posto di lavoro, ce l'ha da due euro all'ora in cooperativa nel centro commerciale per due mesi, non fa un mutuo, primo perché le banche non glielo danno, secondo non fa un figlio perché fa i conti di quanto costa. E quindi l'unico modo per crescere e ridurre questo debito è permettere alla gente di tornare a lavorare. Perché la mia battaglia per chiudere le cartelle di Equitalia per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi ma non sono riusciti a pagare tutto. Perché sono dei fantasmi che sono costretti a lavorare in nero e a non pagare le tasse. Io non voglio i fantasmi in Italia. Poi per caità rimarranno ancora dei disoccupati, dei poveri, però non i 5 milioni di adesso. Senta Salvini, io vorrei aprire con lei il capitolo Roma che si articola in due domande. Comincio con la prima. La prima è questa. Non minacce esplicite ma un atteggiamento molto duro di chiusura. Così fonti della Corte dei Conti del Lazio hanno descritto ieri la reazione avuta dai militanti di Casa Pound nei confronti degli uomini della Guardia di Finanza che si erano recati in via Napoleone Terzo per effettuare un'ispezione dell'immobile occupato abusivamente dal 2003 e valutare ovviamente un eventuale danno erariale. Ecco si è parlato perfino di una risposta da parte di alcuni militanti di Casa Pound che sarebbe stata se entrate ci sarà un compargimento di sangue. Allora cosa si sente di dire? La violenza, la minaccia fisica o morale non è mai la soluzione a niente quindi se c'è qualcuno che deve fare dei controlli deve poter fare tranquillamente dei controlli. Non esistono aree al di fuori della legge della legalità e del controllo in nessuna parte del paese. Bene, tornando sempre a Roma, non le posso non dire che Roma soffre sotto gli occhi di tutti, è umiliata, un'amministrazione che senza ombra di dubbio non è riuscita a mantenere diciamo le promesse, a mettere in campo quel cambiamento tanto sbandierato dal suo sindaco che ora come lei sa rischia perfino di essere condannata per falso. Ecco qualche giorno fa lei a Latina ha detto stiamo crescendo ovunque soprattutto qua quando arriverà il momento di votare a Roma ecco è possibile che tocchi a uno dei nostri giocarsela siamo i più forti. Allora io le chiedo lei come giudica questa amministrazione visto anche quello che è successo ieri nella scala mobile di una metro che purtroppo non c'è manutenzione. Vabbè ma lì mi sembra che ci fossero decine di ubriachi pseudo tifosi di una squadra russa che facevano casino e le scale mobili non sono fatte perché la gente salti. Ministro se fidi di un romano la manutenzione la manutenzione delle scale mobili a Roma in alcune stazioni non viene fatta da anni. Ci credo ci credo ogni tanto la prendo ti posso dire non per il malcomune mezzo gaudio che anche nella mia efficientissima Milano ci sono scale mobili e accessori per disabili fermi da tempo immemore senza una spiegazione plausibile però questo non è una soluzione. Anch'io mi aspettavo di più come tutti i romani perché io dissi piuttosto di votare a sinistra scegliete il cambiamento. Merita tanto questa città è grossa e difficile. Io la organizzerei in maniera diversa. Quando vai a Ostia non sei a Roma. Il Campidoglio e Ostia sono lontanissimi. Ostia potrebbe e dovrebbe essere ad esempio un comune autonomo perché è una realtà totalmente diversa. Roma è grande sette volte Milano è difficilmente governabile. Mi sembra che i Cinque Stelle potessero far di meglio. Hanno ereditato una roba per carità di Dio che è sovrumana. Io non mi monto la testa. Sono solo contento del fatto che ogni giorno camminando per Roma entrando in negozio o fermandomi a parlare col taxista o col vigile mi dicono io ci sono Salvini se serve per la mia città. Non chiedermi i nomi. Non ho il nome del candidato sindaco. Mi permetta mi piacebbe che la Lega potesse dare il suo contributo a alla rinascita di questa città. Mi permetta non le chiedo nomi però non le posso non chiedere se questo consenso è accompagnato da un processo politico che lei sta mettendo in atto a Roma in cui alcune figure magari interne della Lega fuori della Lega possono essere spendibili come candidati sindaci. Non si dovrebbe mai dire in politica però per assurdo in questo momento c'è perfino troppa gente che si avvicina alla Lega e quindi bisogna stare attenti perché c'è qualcuno magari che si vuole riciclare. Se fosse lei il sindaco di Roma la prima cosa che farebbe quale quale sarebbe? La gestione dell'ordinario le strade i cestini e le foglie le strade i cestini e le foglie poi è vero che c'è un debito incredibile vedevo che lama non sa se riesce a pagare gli stipendi all'atac in passato hanno assunto la qualunque raccomandati amici cugini quindi qualcuno dovrebbe risponderne civilmente e penalmente di fronte ai cittadini romani però ripeto il voto ecco a Trento e Bolzano spostandoci da Roma c'è stato il primo voto vero degli italiani da che esiste questo governo e mi sembra che gli italiani fra l'Europa dei tagli dei sacrifici e l'Italia che critica e quindi Fabio Fazio, Gad Lerner, Michele Santoro, Asia Argento, Balotelli, cantanti, attori, registi e questo governo che ha tanti limiti, ha tanti difetti però sta cercando di fare qualcosa di buono mi sembra che che abbia scelto chiaramente ne sono ne sono onorato Ministro Salvini la la riporto in Europa innanzitutto pronti se vuole qualcosa già ieri ha fatto trapelare ma insomma non ho avuto modo di commentare direttamente la sceneggiata di ciocca modello novello Khrushchev diciamo in sedicesimi se vuole dire qualcosa e poi abbiamo bisogno all'Europa non la cambiamo con le provocazioni siamo una forza di governo l'Europa la cambiamo dimostrando che l'Italia può fare meglio e siamo un punto di riferimento per tanti ieri ero in Romania dove c'è un governo di centro-sinistra quindi teoricamente dovrebbe dire cose diverse da me e invece sul cambiamento dell'Europa il cambio delle regole sull'immigrazione sull'agricoltura gli investimenti sul lavoro sulla povertà siamo esattamente sulla stessa linea coi romeni ma anche coi francesi ormai Macron è nettamente minoranza in casa sua poi ormai l'abbiamo beccato e da quindici giorni che questi scaricano i migrati di notte nei boschi italiani come i ladri veramente una roba che che grida vergogna al mondo c'è voglia di cambiamento al di là delle etichette destra sinistra fascisti comunisti quindi io voglio che i miei figli crescano in Europa non voglio uscire dall'Europa non voglio uscire dall'euro non voglio fare sfaccelli non voglio sbattere le scarpe sui tavoli però lasciate che gli italiani lavorino lasciate che gli italiani ma vi sembra astruso dare il diritto alla pensione a uno che ha sessantadue o sessantatré anni mi sembra così da male il suo cavallo di battaglia molto fortunato basta dare un'occhiata ai messaggi e ai tweet che ci arrivano però la domanda non mi avete detto il tastino adesso le mandiamo le portiamo fisicamente i fogli la domanda è proprio la luce di quello che lei ha appena detto lo sa benissimo che cosa sto mirando no non lo so no lo sa il l'essere a maggio le elezioni europee non solo come dire l'uomo forte italiano quindi nell'ottica interna ma anche una il volto forte del sovranismo europeo è un progetto che sta carezzando quindi convogliare intorno a Matteo Salvini tutta una serie di movimenti e progetti sovranisti o populisti chiamateli come vi pare per cambiare radicalmente l'unione lei c'è o no guardi io mi alzo la mattina pensando a cosa posso fare per il mio paese e quindi questo faccio e farò e questo è il mio più grande onore non voglio montarmi la testa è vero che molti dall'estero mi chiedono prova a fare in Europa quello che stai riuscendo a fare in questi mesi in Italia e però bisogna sempre mantenere umiltà concretezza ci penseremo ma non adesso se se dai francesi ai tedeschi ai finlandesi ai bulgari agli olandesi o agli austriaci mi dicessero proviamo ad applicare il cambiamento italiano a livello europeo perché da voi funziona io non tanto per me o per la Lega quanto per l'Italia ne sarei onorato però ripeto chiedermelo adesso io oggi voglio andare in San Lorenzo a Roma vedere perché questo palazzo abbandonato e ritrovo dispacciatori perché una ragazza di 16 anni viene drogata stuprata e ammazzata nel cuore della capitale. Poi le racconto in privato via dei Volci che è una via di San Lorenzo a Roma dove da anni qualcuno tenta di entrare tra cui la polizia non gli viene permesso però addirittura è un'altra storia. Beh ci potrà entrare il ministro però. Beh mi auguro che Salvini questa mattina abbia accesso in quella via. Giussi prima di andare alla tua domanda facciamo questa cosa perché vogliamo sottolinearlo al pubblico all'ascolto ormai siete abituati con Salvini che parla dei messaggi degli ascoltatori. Io francamente non ho mai visto nessun politico così ossessionato dai messaggi degli ascoltatori. No perché ci sono i complimenti ma anche le critiche a me servono le critiche. Rimanga lì perché la scena la facciamo dal vivo in radiovisione. Andy Ceccarelli in regia puoi portare il plico con tutti i messaggi al ministro Salvini così in modo tale che li possa leggere con la la cura e l'attenzione. Però non si scelgo a caso. Sì poi nel frattempo abbiamo circa 6.000 persone che stanno seguendo la diretta e anche loro stanno scrivendo in tantissimi Facebook naturalmente. La domanda è questa in questo momento andiamo al mi è molto divertito questo nome giornalistico questa scelta del patto delle tagliatelle veramente divertente. Patto? Delle tagliatelle. La vostra cena Conte Di Maio e Salvini l'altro ieri. Tagliatelle di Nonna Pina sono le uniche che conosco. Esattamente il patto delle tagliatelle è stato definito giornalisticamente quindi c'erano un po' di cose sul tavolo ovviamente anche la bocciatura più che attesa da parte dell'UE ma si parla anche di RAI. A che punto siamo con la RAI ministro? No non ne parlo io e non ne parlano i politici o i capi partito di RAI. C'è un amministratore delegato e c'è un presidente che stanno secondo me facendo una cosa bella che non so se accadesse in passato. Mi risulta che stiano incontrando tante persone interne all'azienda nel senso che non stanno andando a cercare Messi o Ronaldo che arrivi da Marte. È un'azienda con tredicimila dipendenti con tante professionalità accantonate negli anni anche per ragioni politiche non per ragioni professionali e quindi mi risulta che l'amministratore delegato stia incontrando stia ascoltando stia valutando e quindi penso che la RAI anche perché è pagata dagli italiani meriti tanto. Poi se lei mi chiede da spettatore non da ministro un giudizio su alcuni programmi e su alcuna informazione evidentemente palesemente e pregiudizialmente schierata a sinistra contro la Lega contro Salvini che è il colpevole di tutti i mali è cambio canale. Fortunatamente c'è il telecomando cambio canale. Posso farle una domanda lei in passato sa insomma anch'io sono stato un conduttore in forze al servizio pubblico però una cosa di cui mi sono reso conto lavorando alla RAI è questa Salvini perché tutti i politici dicono che la la RAI deve essere autonoma dalla politica eccetera poi a me capitava come a tantissimi altri colleghi che bastava mettere su una trasmissione con così come dire degli ospiti o tentare di fare delle cose con una linea editoriale lontana da quella del governo in carica e accadeva che eravamo destinatari di continue interrogazioni parlamentari. È possibile pensare ad una RAI in cui i politici non fanno interrogazioni parlamentari sui programmi? Che bello che bello. Eh, ve lo chiedo proprio da eh sì anche ma guarda eh noi siamo al governo da quattro mesi e mezzo ormai quasi quasi cinque abbiamo giurato il primo giugno quindi il primo novembre saranno cinque mesi penso che sia il primo governo nella storia della Repubblica italiana andate a verificare che che ha l'informazione pubblica la stragrande maggioranza dell'informazione televisiva radiofonica dei giornali contro contro di solito c'è quello a favore quello contro quello mediano sono tutti contro però non non faccio il piangina come si dice a Milano tiro dritto spero che la RAI visto che ha tredicimila dipendenti ed è pagata dagli italiani e pagata a fior di quattrini dagli italiani sia equilibrata e dia spazio a tante voci cosa che oggi purtroppo non sempre è. Ministro eh torniamo lei lo ha accennato però insomma i rapporti con la Francia non possiamo non parlarne e provare a capire realmente secondo lei secondo il che cosa stia accadendo in quelle zone di confine perché se lei ha detto come ha detto pochi istanti fa ci scaricano immigrati nei boschi allora qui qualcuno ci urla nel manico senza discussione qualcuno a Parigi non può dire di non sapere che cosa dice quindi all'Eliseo Matteo Salvini questa mattina in diretta abbiamo chiesto spiegazioni non tanto le scuse delle scuse io e gli italiani ci facciamo poco abbiamo chiesto documenti numeri nomi cioè quanti ne avete riportato in Italia chi erano c'erano dei minorenni e dei bambini ci risulta di sì c'erano delle donne ci risulta di sì perché l'avete fatto chiarisco a chi ci ascolta che non c'è nessun accordo con l'Italia per fare tutto questo e quello che mi ha fatto in bestialiera è che io ho passato l'estate controllando i confini essendo indagato essendo attaccato col Macron che mi insultava ogni quarto d'ora come razzista cattivo egoista e fascista e questi fanno fanno tranquillamente i loro comodi quindi a ho mandato le pattuglie della polizia di stato per evitare che continuino a farlo b vediamo se c'è qualche giudice che ha voglia di indagare visto che su di me di inchieste aperte ce ne sono decine c che i francesi la smettano ma c'è secondo lei un intento politico da parte di Parigi di destabilizzare può essere perché Macron è in crollo all'interno sta perdendo ministri sta perdendo consensi e quindi ha scelto Salvini e l'Italia come come avversari probabilmente qualcuno voleva che Salvini arrivasse a fare il ministro dell'interno e invece di meno immigrati ne arrivassero di più e entrassero a tutte le parti dalla Slovenia dalla Francia da dal Mediterraneo dalle Alpi e invece ci siamo messi a lavorare seriamente e gli sbarchi si sono ridotti da cento undici mila a ventuno mila vorrei integrare la domanda di Fulvio con questa notizia che oggi viene pubblicata sul quotidiano la verità di Maurizio Belpietro le leggo il titolo migranti Macron respinge minori la croce rossa ventuno da inizio anno gli esperti del suo eh di Castero inviati in Francia scoprono anche un altro scandalo i gendarmi hanno tentato di espellerli eludendo il trattato di Dublino i sindaci di confine confermano accade molto spesso allora quando di mezzo ci sono i minori la questione si fa ancora più grave ministro eh sì perché noi abbiamo accolto negli ultimi anni settecentomila richiedenti asilo fra cui una marea di minori se ci sta ascoltando qualche sindaco qualche consigliere comunale sa che costo sia per una comunità eh le migliaia di euro a bilancio per mantenere questi bimbi e questi ragazzi che però noi facciamo non perché ce lo dicono i trattati ma perché perché lo facciamo perché è giusto farlo però anche gli altri dovrebbero fare la loro parte non possono dire che gli italiani sono egoisti, leghisti, fascisti, razzisti e poi non prenderne neanche uno anzi rimandarceli indietro di notte siamo veramente all'assurdo detto questo anche qua se io avessi dovuto aspettare che l'Europa si muovesse avremmo avuto i soliti centinaia di migliaia di sbarchi abbiamo fatto per conto nostro sulla manovra economica rispettosamente rispettando le regole e il buonsenso faremo lo stesso se dovessimo dar retta all'Europa la gente non va in pensione non lavora e paga le stesse tasse di oggi eh diamo retta al cervello e al cuore a quello che gli italiani ci dicono leggo sui messaggi ovviamente ci sono anche critiche c'è gente che si aspettava di più eh c'è c'è gente che dice bah bisogna rispettare quello che dice l'Europa a prescindere no se l'Europa ordina RTL domani di chiudere voi chiudete non ci pensiamo nemmeno eh ma non perché siete euroscettici perché lo ritenete un errore un e quindi se l'Europa mi dice di 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 non toccare la legge fornero però noi siamo un'azienda privata l'Italia non è un'azienda privata Selvini però l'Italia sono sessanta milioni di uomini e donne che hanno diritto di stare un po' meglio sto leggendo questa mattina abbiamo parlato poco fa di Roma ci sono a Roma ci sono delle cose che evidentemente danno noia danno fastidio non vanno bene posso dare una buona notizia almeno che nelle prossime settimane io ero quest'estate a visitare delle ville sequestrate ai Casamonica in una periferia romana ecco una di questa è pronta per essere abbattuta da una bella ruspa perché diventerà un giardinetto per i bambini di quel quartiere la guiderà lei la ruspa? Ah sarei onorato ho anche imparato a guidarla la ruspa sì 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 mi hanno insegnato non ci credo sì sì questa è una notizia cioè lei ha preso lezioni ha preso lezioni non è che mai la scuola ruspa non c'è la scuola guida per ruspe però quest'estate sia per spostare degli ulivi che in valtellina lo scorso inverno in salita per sistemare le piste da sci ma hanno fatto guidarla a ruspa ecco dicevamo a proposito va bene adesso facciamo sistemiamo la villa di Casamonica dicevo questa è Roma a Milano stamattina c'è questa notizia il procuratore di Milano che dice è la Lombardia la terra degli evasori ora cose che si vedono meno sono meno evidenti dei rifiuti e delle buche ma l'evasione è un tema molto significativo per questo paese e sono numeri che potrebbero diciamo ritornare nelle tasche degli italiani stiamo facendo qualcosa per questo al governo sta facendo qualcosa? Sì nel decreto fiscale ci sono due facce della medaglia perché devono andare insieme uno pene più severe per chi evade perché non gli puoi dare una tiratina d'orecchio ma proprio per quelli che ad esempio non fanno la dichiarazione di redditi il problema noi voglia e due aiutare invece quelli che hanno fatto la dichiarazione di redditi ma non ce l'hanno fatta a pagare tutto il dovuto i contributi uno si è rotto la gamba uno è rimasto incinto uno ha chiuso il negozio uno gli si è rotta la macchina volete trovare gli evasori totali? Distinguere gli evasori evasori che hanno le tre ville non hanno mai fatto la dichiarazione di redditi per quelli c'è la galera come negli Stati Uniti le manette io per quelli non vedo sanzioni economiche se non fai la dichiarazione di redditi per dieci anni e ti becco con tre ville non ti do una multa puoi fare anche il cantante il calciatore ti metto in galera come negli Stati Uniti ma se sei l'artigiano che non ce l'ha fatta a pagare i contributi al dipendente o o o ha chiuso la partita IVA o l'attività e c'hai quella cartella da trentamila euro che ti sta condannando a morte io ti convoco me la chiudi col dieci il quindici venti per cento di quello che mi puoi dare e torni c'è l'evasione dei furbi dei delinquenti e c'è una parte di evasione di sopravvivenza di 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 necessità di sfiga senta oggi sul Corriere della Sera pagina quindici esteri leggo questa notizia vorrei un suo commento velo integrale vietato l'ONU boccia la Francia occhiello il caso di due donne al comitato per i diritti umani guidato da un israeliano tra l'altro violata la libertà individuale per quanto riguarda quello che lei pensa rispetto al velo integrale nel nostro paese che cosa si sente di dire il velo integrale sono assolutamente contrario io do rispetto a chi porta rispetto ognuno può credere nel dio che vuole buddista ebreo valdese cattolico protestante però se una religione applicata alla lettera come l'islam integralista ritiene che la donna valga meno dell'uomo la donna non possa lavorare la donna non possa imparare italiano la donna va da coperta da capo a piedi non è un modo di vivere che in italia io apprezzo e quindi il velo integrale io per per i miei figli non ce lo vedo in giro per roma o per milano ministro mi scrivono che stamattina c'è un comitato di ordine pubblico a roma proprio sulle occupazioni abusive a proposito del palazzo di san lorenzo e di tutte le occupazioni abusive se riesco anzi se riesco lo trovo il modo di farci un salto e poi di riuscire a fare un sopralluogo nel palazzo di san lorenzo anche se sotto sequestro ovviamente essendo stato teatro di un omicidio è sotto sequestro lei potrà entrare insomma è accompagnato no ma più che altro mi interessa capire da quanti anni da quanta vita è abbandonato quel palazzo ministro visto che siamo quasi saluti tra l'altro vogliamo ringraziare la passione e l'interesse a cominciare dalle critiche come lei anche ha sottolineato con cui ci avete seguito anche in diretta facebook e proprio da facebook è arrivata questa notizia una la prima parte la integro io lei prima ha detto la nostra è una scommessa di crescita proviamo a concretizzare quanto è più uno e cinque più due noi abbiamo messo più uno e cinque quindi per voi quella basta la domanda è crescere del doppio del previsto del se io do diritto alla pensione al lavoro e al reddito a milioni di italiani e voglio crescere del doppio del previsto chiarissimo però la domanda via facebook poi era e ma se la perdete la scommessa ve ne andate ma se se beh guarda se 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 gli italiani ci vogliono mandare a casa ci manderanno a casa io non sono attaccato alla poltrona io sono convinto che ce la facciamo c'è un'italia che ha voglia di correre non vuole più essere serva di di regole sciocche quindi sono convinto che ce la faremo è tutto buona giornata da giusy legrenzi fulvio giuliani pierluigi diaco e dal ministro dell'interno vicepremiere e leader della lega matteo salvini matteo salvini grazie abbraccio e buona giornata a presto grazie a domani non stop news a cura della redazione giornalistica di rtl cento due cinque direttore responsabile luigi tornari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.